Capitolo 8 Clemenzia lancia un grido agghiacciante, scuotendo la mano forse natamente per liberarla dai rettili. Le minuscole ferite lasciate dai loro denti trasudavano gli stessi colori fluorescenti della loro pelle. Un insieme di pus acceso di rosa, giallo e blu le colava lungo le dita. Si materializzarono tre assistenti di laboratorio con la giacca bianca. Due bloccarono Clemenzia sul pavimento, mentre un terzo le praticava un'iniezione con una siringa ipodermica, dall'aspetto inquietante piena di un liquido nero. Le sue labbra si fecero prima viola e poi esangui, prima che perdesse i sensi. Gli assistenti la misero su una barella e la portarono via rapidamente. Coriolanus fece perseguirli, ma la voce della dottoressa Goal lo fermò. «Tu no, signor Snow, tu resti qui». «Ma io...» «Lei, balbettò, morirà!» «E chi lo sa», rispose la donna. Aveva infilato un'altra volta la mano nella teca e passava lievemente le dita nodose sui suoi animaletti. È chiaro che il suo odore non era sulla carta. Hai scritto da solo il progetto? «Sì, inutile mentire. Mentire aveva quasi certamente ucciso Clemenzia. Era evidente che aveva a che fare con una pazza da gestire con la massima attenzione. Bene, la verità, finalmente. Non so cosa farmene dei bugiardi. Cosa sono le bugie se non tentativi di nascondere un qualche tipo di debolezza. Se rivedo questo lato di te, ti taglio fuori. E se il decano Highbottom vorrà punirti per questo, non lo ostacolerò. È tutto chiaro?» Si avvolse uno dei serpenti rosa intorno al polso come un braccialetto, e sembrò contemplarlo. «Chiarissimo», rispose Coriolanus. «È buona la tua proposta», disse lei. «Ben congegnata e di facile esecuzione. Consiglierò alla mia squadra di esaminarla e attuare una versione della prima fase». «D'accordo», replicò Coriolanus, preoccupandosi di dare la più cauta delle risposte, visto che era circondato da creature letali che eseguivano gli ordini di quella donna. La dottoressa Goal si mise a ridere. «Oh, torna a casa. Oppure va a trovare la tua amica, se è ancora viva. È l'ora del mio latte e biscotti». Coriolanus scappò via, andando a sbattere contro una teca di lucertole e mandandone in fibrillazione gli occupanti. Sbagliò strada una volta, poi un'altra, e si ritrovò in un settore spaventoso del laboratorio, le cui teche di vetro ospitavano esseri umani con parti animali innestate sul corpo. Minuscole gorgere di piume intorno al collo, artiglie o addirittura tentacoli al posto delle dita e organi imprecisati, branchi e forse, inseriti nel torace. La sua comparsa li colse di sorpresa e quando alcuni aprirono la bocca per implorarlo, si rese conto che erano dei senza voce. Mentre risuonavano le grida mute, Coriolanus intravide dei piccoli uccelli neri appollaiati sopra di loro. Il nome Ghiandaia chiacchierona fece capolino nella sua mente. Un breve capitolo delle sue lezioni di genetica. L'esperimento fallito, l'uccello che poteva ripetere i discorsi umani, che era stato uno strumento di spionaggio finché i ribelli non ne avevano scoperto le capacità e lo avevano rispedito al mittente con false informazioni. In quel momento le inutili creature facevano come da cassa di risonanza ai patetici lamenti dei senza voce. Alla fine, una donna con un camice e un paio di enormi occhiali rosa dalle lenti bifocali lo fermò. Lo rimproverò per aver disturbato gli uccelli e lo accompagnò di nuovo all'ascensore. Mentre aspettava, una telecamera di sicurezza lampeggiò verso di lui, che tentò ossessivamente di lisciare la pagina sgualcita della proposta che aveva accartocciato nel pugno. Una volta al pian terreno, i pacificatori gli andarono incontro. Gli restituirono lo zaino insieme a quello di Clemenzia e lo scortarono fuori dalla cittadella. Coriolanus arrivò in fondo alla strada, girò l'angolo prima che le sue gambe cedessero e si lasciò cadere sul bordo del marciapiede. Il sole gli bruciava gli occhi e gli sembrava di non riuscire a riprendere fiato. Era esausto, visto che la notte prima non aveva dormito, ma anche carico di adrenalina. Cos'era successo? Clemenzia era morta. Non aveva ancora cominciato a fare i conti con la fine violenta di Arachne e adesso questo. Era come trovarsi negli Hunger Games. Solo che loro non erano ragazzi dei distretti. Capital City avrebbe dovuto proteggerli. Ripensò a Sejanus, che diceva alla dottoressa Goll che il compito del governo era proteggere tutti, anche gli abitanti dei distretti. Ma Coriolanus non era certo di come si potesse conciliare quell'idea con il fatto che governo e i distretti erano stati nemici fino a poco tempo prima. Di sicuro, però, il figlio di uno Snow avrebbe dovuto avere la priorità assoluta. Avrebbe potuto essere morto se fosse stata Clemenzia e non lui a scrivere la proposta. Affondò il viso tra le mani, pieno di confusione, rabbia, ma principalmente paura. Paura della dottoressa Goll. Paura di Capital City. Paura di tutto. Se le persone che avrebbero dovuto proteggerti giocavano a dadi con la tua vita, come potevi sopravvivere? Non fidandoti di loro, questo era certo. E se non potevi fidarti di loro, di chi ti fidavi? Poteva succedere di tutto. Coriolanus si sentì attorcigliare lo stomaco al ricordo dei denti del serpente che affondavano nella carne. Povera Clemmie. Possibile che fosse morta davvero. E in quel modo tremendo. E ammesso che lo fosse, era colpa sua. Perché non aveva detto che stava mentendo? Sembrava un peccato veniale, ma la dottoressa Goll avrebbe incolpato lui per averla coperta. Se fosse morta, lui avrebbe potuto finire in un mare di guai. Immaginò che, in caso d'emergenza, una persona sarebbe stata portata al vicino Capitol Hospital. Perciò si ritrovò a correre in quella direzione. Una volta nell'atrio, seguì i cartelli per il pronto soccorso. Non appena la porta scorrevole automatica si aprì, sentì Clemenzia urlare, proprio come quando i serpenti l'avevano morsa. Se non altro era ancora viva. Farfugliò qualcosa all'infermiera dietro al bancone, e lei capì a sufficienza per farlo sedere proprio mentre veniva colto da un'ondata di vertigini. Doveva avere un aspetto orribile, perché la donna gli portò due pacchetti di biscotti energetici e un bicchiere di una bevanda al limone dolce e frizzante, che lui tentò di sorseggiare, ma finì per tracannare, già con la voglia di fare il bis. Lo zucchero lo fece sentire subito un po' meglio, anche se non abbastanza da mangiare i biscotti che infilò in tasca. Quando il medico che si occupava di Clemenzia uscì, Coriolanus si era quasi ripreso. Il dottore lo rassicurò. Avevano già curato in precedenza le vittime degli incidenti del laboratorio, e dal momento che l'antidoto era stato somministrato tempestivamente, c'erano tutte le ragioni per credere che Clemenzia sarebbe sopravvissuta, anche se esisteva la possibilità di un danno neurologico. Sarebbe rimasta in ospedale finché non fossero stati certi che era stabile. Se Coriolanus fosse tornato nel giro di qualche giorno, Clemenzia sarebbe forse stata pronta per ricevere visite. Ringraziò il dottore, gli consegnò lo zaino della compagna, e fu d'accordo quando lui gli suggerì che la cosa migliore sarebbe stata tornare a casa. Mentre ripercorreva i propri passi verso l'ingresso, vide i genitori di Clemenzia che correvano nella sua direzione, e riuscì a infilarsi in una porta. Non sapeva cosa avessero riferito ai Dovecote, ma non gli conveniva parlare con loro, specie prima di aver elaborato la sua versione dei fatti. La mancanza di una storia plausibile che lo assolvesse dall'accusa di aver contribuito a ridurla così rendeva impossibile il suo ritorno a scuola o a casa. Tigris non sarebbe rientrata almeno fino all'ora di cena, e la signora nonna sarebbe rimasta sconvolta dalla sua situazione. A sorpresa, scoprì che l'unica con cui aveva voglia di parlare era Lucy Gray, una persona in gamba che difficilmente avrebbe riferito ad altri le sue parole. Si ritrovò allo zoo ancora prima di aver riflettuto sulle difficoltà con cui si sarebbe scontrato una volta lì. Due pacificatori armati fino ai denti erano di guardia all'ingresso principale e molti altri si aggiravano alle loro spalle. All'inizio lo mandarono via. Avevano l'ordine di non far entrare nessun visitatore. Ma Coriolanus si giocò la carta del mentore e a quel punto alcuni di loro lo riconobbero come il ragazzo che aveva tentato di salvare Arachne. La sua fama bastò a convincerli a telefonare per chiedere uno strappo alla regola. Il pacificatore parlò direttamente con la dottoressa Goll e Coriolanus sentì la sua caratteristica resata roca sprigionarsi dal microfono anche se era a diversi metri di distanza. Fu autorizzato a entrare con un pacificatore ma solo per poco tempo. I rifiuti lasciati dagli spettatori in fuga erano ancora sparsi lungo il vialetto che portava alla gabbia delle scimmie. decine di ratti sfrecciavano qua e là rosicchiando ciò che era rimasto da pezzetti di cibo andato a male a scarpe perdute nel panico. Anche se il sole era alto diversi procioni cercavano da mangiare raccogliendo bocconi nelle piccole abili mani. Uno masticava un ratto morto e nel mentre teneva gli altri a distanza. Non è lo zoo che ricordo io disse il pacificatore. Adesso ci sono solo ragazzini in gabbia e animali portatori di malattie in libertà. In vari punti del vialetto Coriolanus notò dei contenitori pieni di polvere bianca infilati sotto i massi o posti vicino ai muri. Gli tornò in mente il veleno che si usava a Capitol City durante l'assedio un periodo in cui scarseggiavano i viveri ma abbondavano i topi. Gli esseri umani in particolare quelli morti erano diventati il loro pane quotidiano. Certo nei giorni peggiori anche gli uomini avevano mangiato altri uomini quindi non c'era motivo di sentirsi superiori ai ratti. È topicida quello chiese al pacificatore. Sì roba nuova che stanno sperimentando ma quelle bestie sono così furbe che non si avvicinano neanche. Si strinse nelle spalle è quello che ci hanno dato e con quello dobbiamo lavorare. Dentro la gabbia dei tributi di nuovo in ceppi si accalcavano contro la parete di fondo o si erano sistemati dietro le formazioni rocciose come se cercassero di rendersi meno visibili possibile. Devi tenerti a distanza lo avvisò il pacificatore. È improbabile che la tua ragazza sia una minaccia ma chi può dirlo? Potrebbe sempre aggredirti un altro. Devi stare indietro dove non possono toccarti. Coriolanus annuì e si avviò al suo solito posto ma questa volta rimase in piedi dietro la roccia. Non si sentiva minacciato dai tributi loro erano l'ultimo dei suoi problemi però non voleva nemmeno dare al decano Highbottom un'altra scusa per punirlo. All'inizio non riuscì a individuare Lucy Gray poi incrociò lo sguardo di Jessup che sedeva con la schiena appoggiata al muro di fondo tenendosi quello che sembrava il fazzoletto degli snow all'altezza del collo. Jessup scosse qualcosa accanto a lui e Lucy Gray si raddrizzò con un sobbalzo. Per un attimo parve disorientata poi quando vide Coriolanus si sfregò gli occhi assonnati e con le dita si tirò indietro i capelli sciolti. Perse l'equilibrio mentre si alzava così allungò la mano per aggrapparsi al braccio di Jessup. Ancora malferma cominciò ad attraversare la gabbia trascinandosi dietro le catene. Era il caldo il trauma dell'omicidio la fame dal momento che Capitol City non dava da mangiare ai tributi doveva essere digiuna dall'assassinio di Aracne quando aveva vomitato il prezioso cibo offerto dal pubblico e con ogni probabilità anche la torta di pane e la mela del mattino. Quindi tirava avanti da giorni con un panino al polpettone e una prugna avrebbe dovuto trovare un modo per procurarle altro cibo fosse stata pure la minestra di cavolo. Quando Lucy Gray ebbe oltrepassato il fossato asciutto lui alzò una mano in segno di avvertimento mi dispiace non possiamo stare vicini la ragazza si fermò a pochi centimetri dalle sbarre mi sorprende che tu sia qui la sua gola la pelle e i capelli tutto sembrava riarso dal torrido sole del pomeriggio aveva un brutto livido sul braccio che la sera prima non c'era chi l'aveva picchiata un altro tributo o una guardia non volevo svegliarti disse lei scrollò le spalle non fa niente io e Jessup dormiamo a turno ai ratti di Capitol City piacciono le persone i ratti cercano di mangiarti chiese Coriolanus disgustato al solo pensiero beh qualcosa ha morso Jessup al collo la prima notte che eravamo qui era troppo buio per vedere cos'era ma ha parlato di pelo e la notte scorsa qualcosa mi strisciava sulla gamba indicò un contenitore di polvere bianca accanto alle sbarre quella roba non serve a un accidente Coriolanus immaginò una scena terribile lei che giaceva morta sotto un ammasso di topi quella visione spazzò via i suoi ultimi brandelli di resistenza e si sentì travolgere dalla disperazione disperazione per lei per se stesso per entrambi oh Lucy Gray mi dispiace tanto mi dispiace tanto per tutto non è colpa tua disse lei mi odierai di sicuro dovresti io mi odierei al posto tuo non ti odio gli Hunger Games non sono stati una tua idea no ma ne faccio parte contribuisco alla loro esistenza abbassò la testa per la vergogna dovrei essere come se Janus e mollare tutto o almeno provarci no non farlo per favore non lasciarmi affrontare questa situazione da sola avanzò verso di lui e fu sul punto di svenire si aggrappò alle sbarre con le mani e scivolò a terra ignorando l'avvertimento della guardia Coriolanus salì d'impulso sulla roccia e si accovacciò di fronte a lei dall'altra parte delle sbarre stai bene Lucy Gray annoì ma non sembrava stare bene affatto avrebbe voluto raccontarle della paura che aveva provato con i serpenti e di clemenzia che era stata a un passo dalla morte aveva sperato di poterle chiedere consiglio ma tutto ciò che lo angosciava impallidiva rispetto alla sua situazione gli tornarono in mente i biscotti che gli aveva dato l'infermiera e si frugò in tasca cercando i due pacchetti schiacciati ti ho portato questi non è molto ma sono energetici che frase idiota cosa poteva importarle del loro valore nutritivo si rese conto che stava ripetendo a pappagallo quello che dicevano gli insegnanti durante la guerra quando uno degli incentivi per far andare i ragazzi a scuola era proprio la merenda gratis fornita dal governo quei cosi ruvidi e insapori mandati giù con l'acqua erano tutto ciò che alcuni ragazzini avrebbero avuto da mangiare per la giornata ricordò le loro piccole mani simili ad artigli che laceravano la confezione e lo sgranocchiare disperato che ne seguiva Lucy Gray aprì subito un pacchetto e si infilò in bocca uno dei due biscotti masticando e inghiottendo a fatica quella roba asciutta si premette la mano sullo stomaco sospirò e mangiò il secondo più lentamente il cibo sembrò renderla più lucida e anche la sua voce parve più tranquilla grazie disse va meglio mangia gli altri la sollecitò lui accennando al secondo pacchetto scosse la testa no questi li tengo per gessa è mio alleato ormai tuo alleato Coriolanus era perplesso come si poteva avere alleati nei giochi i tributi del distretto dodici cadranno insieme rispose Lucy Gray lui non sarà la stella più luminosa dell'orsa ma è forte come un bue due biscotti gli sembravano un piccolo prezzo da pagare in cambio della protezione di Jessup ti porterò altro da mangiare appena posso e a quanto pare gli spettatori verranno autorizzati a inviare cibo nell'arena ora è ufficiale sarebbe una bella cosa più cibo sarebbe una bella cosa piegò la testa in avanti e l'appoggiò alle sbarre a questo punto come dicevi tu potrebbe avere un senso cantare farò in modo che la gente voglia aiutarmi all'intervista suggeri lui potresti cantare di nuovo la canzone della valle forse corrugò la fronte pensierosa la faranno vedere in tutto Panem o solo a Capitol City in tutto Panem credo rispose ma dai distretti non avrai niente non me lo aspetto infatti non è questo il punto disse lei però forse canterò sarebbe meglio con una chitarra o qualcosa del genere posso provare a recuperarne una non che gli snow avessero strumenti musicali a parte l'inno giornaliero della signora nonna e le canzoni della buonanotte di sua madre tanto tempo prima c'era stata ben poca musica nella sua vita finché non era comparsa Lucy Gray era raro che ascoltasse i programmi radio di Capitol City che per lo più trasmettevano marcette e canzoni di propaganda a lui sembravano tutte uguali ehi dal vialetto il pacificatore gli fece un cenno con la mano così è troppo vicino e comunque il tempo è scaduto Coriolanus si alzò sarà meglio che vada se voglio che mi lasciano entrare ancora certo certo e grazie per i biscotti e tutto il resto disse Lucy Gray aggrappandosi alle sbarre e alzandosi in piedi a fatica lui allungò una mano attraverso le sbarre per aiutarla non è niente non per te forse replicò lei per me ha significato tantissimo che qualcuno si sia fatto vivo come se io fossi importante tu sei importante beh ci sono molte prove del contrario fece tintinnare le catene e diede uno strattone e poi come se si fosse ricordata qualcosa alzò gli occhi verso il cielo tu sei importante per me insistè Coriolanus capitol city poteva anche non darle valore ma lui si non le aveva appena aperto il suo cuore è ora di andare signor snow gridò il pacificatore per me sei importante Lucy Gray ripete le sue parole attirarono di nuovo lo sguardo della ragazza eppure gli sembrava ancora lontana senti ragazzo non costringermi a farti rapporto disse il pacificatore devo andare Coriolanus fece per avviarsi ehi esclamò lei e c'era urgenza nella sua voce lui si voltò ehi voglio che tu lo sappia non credo che tu sia qui per i voti o per la gloria sei una specie rara Coriolanus anche tu Lucy Gray chinò la testa in segno d'intesa e tornò verso Jessup le catene che lasciavano una scia tra la paglia sporca e gli escrementi di ratto quando raggiunse il suo compagno si stese a terra e si raggomitolò tutta come se fosse sfinita dal breve incontro Coriolanus inciampò due volte mentre usciva dallo zoo e si rese conto di essere troppo stanco per escogitare una buona soluzione per qualunque cosa ormai era sufficientemente tardi perché il suo arrivo a casa non sembrasse sospetto così si diresse all'appartamento ebbe la sfortuna di imbattersi in una compagna di scuola Persephone Price figlia del tristemente noto Nero Price che in passato si era mangiato la cameriera finirono per fare la strada insieme dato che erano vicini di casa lei aveva ricevuto l'incarico di fare da mentore a Mizzen un robusto tredicenne del distretto 4 perciò era presente quando a lui e Clemenzia era stato ordinato di uscire temeva di dover discutere del progetto ma Persephone era ancora troppo sconvolta dalla morte di Aracne per parlare di qualsiasi altra cosa di solito Coriolanus la evitava del tutto perché non riusciva a non chiedersi se fosse stata conoscenza degli ingredienti dello stufato che aveva mangiato in tempo di guerra per un certo periodo aveva avuto paura di lei ma ora gli ispirava solo disgusto a prescindere da quante volte ricordasse a se stesso che lei non c'entrava con le sue fossette e gli occhi nocciola dai riflessi verdi era più carina di ogni altra ragazza del suo anno con la possibile eccezione di Clemenzia beh della Clemenzia prima del morso ma l'idea di baciarla lo ripugnava persino adesso mentre lo salutava con un abbraccio pieno di lacrime tutto quello cui il ragazzo riusciva a pensare era la gamba tagliata Coriolanus si trascinò su per le scale i pensieri più cupi che mai al ricordo della povera cameriera stramazzata in strada per la fame quanto poteva aspettarsi che reggesse Lucy Gray deperiva in fretta era debole e assente ferita e spezzata ma soprattutto moriva di fame a poco a poco era possibile che l'indomani non sarebbe riuscita a stare in piedi se non avesse trovato un modo per sfamarla sarebbe morta ancora prima che gli Hunger Games iniziassero grazie a tutti grazie a tutti